A quanti soldi hai rinunciato togliendo le slot? Devo rispondere. Sono un po' imbarazzato a dirlo, ma si tratta di un centinaio di migliaia di euro. Poniamo il caso. Tre slot, quanto guadagneresti in un mese? Penso non meno di mille euro al mese. Sono soldi? Tanti. Soprattutto in questo periodo di congiuntura sono tanti, tanti soldi. Anche di fronte a tanti soldi c'è chi dice no. No perché ne ha viste troppe. No perché una persona, i suoi problemi, la sua vita valgono di più delle monete tirate scioccamente in una gettoniera, anche se entreranno nella tua tasca. C'è Carmelo Abbaselice, titolare di un pub, che ha detto no alle slot, aderendo all'iniziativa della Caritas di Benevento. Non vuol sentirsi chiamare eroe Carmelo perché ha fatto una scelta ragionata, la scelta di chi ne ha viste troppe. Cosa vedevi che accadeva attorno a queste macchinette? Beh, cosa vedevo? Si vede di tutto. Ragazzi che addirittura, non lo so, facevano incantesimi alle macchinette pur di prendere qualcosa di soldi. Però io spesso usavo il deterrente di tenerle spente oppure mettevo il cartello che erano guaste proprio per evitare che giocassero. Però purtroppo a me questa è una malattia ormai riconosciuta e quindi di conseguenza anche il giocatore stesso non se ne rende conto. Di conseguenza diventa molto molto difficile farlo capire. Hai visto persone buttarci dentro anche 300-400 euro, uno stipendio? Mi viene da ridere, 300-400 euro, tanto di più. Per questo oggi nel suo pub compare il logo della campagna No Azzardo di Caritas, la bimba Sabiria, che certifica che in quel locale non ci sono slot. Per questo Carmelo ha ringraziato la Caritas di Benevento, che è fatto da catalizzatore di un malessere, da megafono di un'emergenza. Il tam-tam che c'è stato con questo movimento è stato importantissimo e volevo ringraziare la persona di Gabriella, soprattutto con la quale ho interloquito. Da subito è nata una simbiosi, sperando che possa avere un seguito anche con altre iniziative. Io da anni, ribadivo, da 12 anni praticamente ho tolto le slot. Questa occasione che si è presentata di conoscere un'associazione, diciamo, come la Caritas, che fa la stessa battaglia, non può fare altro che farmi piacere. Perché l'Azzardo è diventato un'emergenza vera e propria a Basilice, nel fortore, come ha testimoniato il sindaco canonico. La ludopatia sta in qualche modo soppiandando l'alcolismo che si stava diffondendo tra i giovani e quindi veramente la cosa rende preoccupante. Noi come amministrazioni ci stiamo dando da fare sotto questo punto di vista. Speriamo che i segnali che stiamo cercando di lanciare vengano accolti soprattutto dagli operatori commerciali che fanno utilizzo di queste slot. Sta soppiantando l'alcol come paradiso artificiale dunque la ludopatia e i guadagni ostacolano il contrasto. Canonico ha offerto uno sconto del 50% sulla tassa rifiuti a chi rifiuta di mettere slot nel proprio locale. Ha accettato solo Carmelo. Una comunità come la mia di 2400 abitanti che soltanto per il gioco ufficiale del Grattevince e degli altri giochi ad essi collegati spende intorno ai 500 mila euro, insomma, ci fa veramente preoccupare. Beh, qui c'è un po' una punta di delusione perché è rimasto l'unico coraggioso che ha usufruito di questo bonus però ha voluto dare un segnale fortissimo perché ha rinunciato a degli incassi interessanti di un certo interesse però ha tenuto, come dire, di fondamentale importanza dare un segnale di tipo etico e morale e questo gli fa onore. In sostanza chi non ha voluto cogliere questo messaggio fa un ragionamento diverso. Dice io con l'introito delle macchinette pago 5-6 volte la Tarsu forse. Ah, sicuramente molto di più. Però, insomma, nella vita se vogliamo che i nostri giovani ci seguano, beh, dobbiamo dare degli esempi. E per dare degli esempi bisogna rinunciare a qualche cosa.